Mamma ti guarda. Signora! Tu Vittoria non lo devi più vedere. Vittoria è mia. Tutto gira e tutto torna con me. No, no, non chiudere il video. Resta ancora con me per qualche curiosità cinematografica. Lo sai qual è il primo film americano in cui si tira lo sciacquone? Psycho di Alfred Hitchcock del 1960. Prima niente, non tiravano l'acqua. Darth Vader compare soltanto per 12 minuti totali nel primo capitolo della saga di Star Wars. La parola dude, dude, nel mitico film Il grande e le boschi, è ripetuta ben 161 volte. Iscriviti al nostro canale per altri video e curiosità. Ti aspetto alla prossima clip. Ciao! 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 Ciao!